ciao bentornati sul canale dei licheni in questo video vediamo come realizzare un punto traforato chiamato punto aggiorno obliquo io l'ho trovato anche chiamato come punto rete rimane molto molto arioso diciamo che è più la superficie traforata di quella piena abbiamo la maglia che forma i contorni di tanti rombi di tanti rombi disposti appunto a rete perché sono sfalsati come anzi quasi come una scacchiera sommessi a scacchiera questo punto è molto facile da realizzare c'è la ripetizione di una sequenza che viene sfalsata nei ferri dispari con poche maglie qua vedete un campione di 16 maglie compresi di cimosa in poche maglie si crea una bella larghezza ovviamente molto morbido essendo molto traforato è chiamato obliquo perché effettivamente a queste colonne un po più spesse questi punti pieni rivolti verso orientati verso sinistra da diciamo un aspetto un po obliquo io ho avviato questo questo campione con un avvio l'avvio alla nordica che non è proprio adatto infatti tende sempre un po a chiudersi ci vorrebbe un avvio un po più elastico ho utilizzato questo metodo per velocità quindi a causa di questo restringimento iniziale tende un po ad arricciare ma normalmente è un punto che tendenzialmente non arriccia andiamo a vedere come si lavora per lavorare il punto a giorno obliquo occorre avviare un numero di maglie che sia multiplo di due il disegno si compone nel primo nel terzo ferro ripetuti poi tutti i ferri pari invece andranno lavorati a rovescio io ho avviato 16 maglie due delle quali faranno parte della cimosa iniziamo allora dal primo ferro che vuole una maglia gettata una maglia lavorata a diritto che poi la ripetizione della sequenza quindi una maglia gettata e due maglie lavorate insieme a diritto una maglia gettata e due maglie lavorate insieme a diritto concludo il ferro con una maglia a diritto e poi o la cimosa giro il ferro come abbiamo detto il secondo ferro e tutti i per i ferri pari andranno lavorati semplicemente a rovescio il terzo ferro si lavora come il primo ma sfalsato di una maglia quindi abbiamo una cimosa e prima della sequenza lavoriamo due maglie a diritto e poi riprendiamo con una gettata e due maglie lavorate insieme a diritto una gettata e due maglie insieme a diritto alla fine del ferro avrò solo la mia maglia di cimosa come vedete si forma già diciamo l'andamento a scacchiera lavoriamo il quarto ferro che andrebbe a chiudere la sequenza dei ferri ora per vedere bene l'andamento del punto lavorerò altre due volte la sequenza quindi ripetiamo il primo ferro dopo la cimosa abbiamo una maglia da lavorare a diritto e poi la sequenza da ripetere di una maglia gettata e due maglie ridotte a diritto secondo ferro a rovescio terzo ferro come il primo ma sfalsato di una maglia quindi invece di iniziare con due diritti con un diritto inizio con due maglie a diritto per questo e concludo con la cimosa e l'ultimo ferro a rovescio appunto ecco come si presenta il punto lavorando tre volte la sequenza dei ferri quindi effettivamente l'andamento delle maglie piene è obliquo verso sinistra che sono le maglie lavorate insieme due volte e maglie gettate formano l'andamento contrario verso sinistra ma è più sottile verso destra scusate ma è un po più sottile formano questo torciglione obliquo insieme vanno a formare tanti piccoli rombi appunto sfalsati alternati a scacchiera che vanno a formare la nostra rete spero che questo video vi sia servito e vi sia piaciuto se avete delle domande o delle richieste scrivetele in un commento per restare sempre aggiornati sulla pubblicazione dei video iscrivetevi al canale e attivate la campanella ci vediamo al prossimo video buoni progetti